Le paure di un bimbo di sette anni le conosciamo tutti o quasi. Una delle peggiori è quella dovuta all'arrivo di un nuovo fratellino appena sfornato, il quale promette di catalizzare tutta l'attenzione di mamma e papà. E basterebbe già questo o no? Ma se ci aggiungi che il nuovo arrivato ha un faccione da boss. Veste sempre in giacca e cravatta, circola per casa con la sua 24 ore spadroneggiando su tutti, allora altro che paura. O almeno è quello che Tim, il fratello maggiore, vuol farci credere, non senza una vivacissima fantasia. Dalla Dreamworks e da Tom Grat, il regista di Megamind e Madagascar, per intenderci, una nuova avventura animata e anche tanto, con tanto ritmo incalzante per la gioia di grandi e piccini, ma anche con molti spunti di riflessione psicologici più per i grandi che per i piccini. Al Cine Vittoria Locri, Sala Rossa, da giovedì 20 aprile con orari 18, 20 e 22, prepariamoci per Baby Boss. Ancora un'altra settimana di grande cinema al Cine Vittoria Locri. Ti aspetto sempre sulla pagina Facebook e ti invito, come sempre, a iscriverti al canale YouTube Carletta Romero per avere sempre una finestra particolare sul mondo del cinema. Ciao a tutti, ci vediamo al Vittorio!